Grazie a tutti. In apertura la cronaca il tragico incidente nel pomeriggio di ieri sulla statale 85 a seguito di un frontale tra un doblò e una focus ha perso la vita il 74enne di Sernia Fausto Valeri ferita anche la figlia che viaggiava con lui verso Venafro. In codice rosso invece gli altri occupanti dell'auto, tre ragazzi di Castel di Sangro tra i 33 e i 45 anni sul posto anche i vigili del fuoco ma sentiamo il servizio di Valentina Ciarlante. Una tragedia della strada, l'ennesima in Molise che stronca una famiglia e crea dolore e apprensione. Un doblò della Fiat e una Ford Focus si sono scontrate frontalmente in pieno rettilineo a macchia di Sernia e le conseguenze sono estremamente drammatiche. Una persona deceduta e quattro ferite di cui due in modo grave a perdere la vita Fausto Valeri, 74 anni, imprenditore edile di Sernia, viaggiava sul doblò in direzione Venafro insieme alla figlia, 45enne, anche lei ricoverata in ospedale. Sull'altro veicolo una comitiva di amici di Castel di Sangro che viaggiava verso Isernia, un 43enne che era alla guida e una donna di 33 anni sono in condizioni critiche, un altro uomo di 45 anni ha riportato vari traumi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 a bordo delle ambulanze di Isernia Soccorso e Croce Bianca. D'urgenza le cinque persone sono state trasportate al Veneziale e qui il 74enne non ce l'ha fatta. La polizia stradale si è occupata dei rilievi e ora dovrà accertare la dinamica dell'accaduto. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. La statale 85, molto trafficata, è stata chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, fino a che i mezzi sono stati rimossi dalla carreggiata anche grazie all'ausilio del soccorso stradale a Ciricci. Il Molise e le sue bellezze sono tra i 52 luoghi da visitare nel 2020 per il New York Times. Il quotidiano americano, come ogni anno, ha diramato la speciale classifica esaltando la piccola regione in graduatoria per l'Italia, anche la Sicilia e Urbino. Se sei alla ricerca dell'Italia incontaminata e tradizionale, l'hai trovata. È il Molise e se non l'hai mai sentita non essere in imbarazzo. Anche molti italiani non la conoscono. Parole del New York Times. Il quotidiano americano, puntualmente, come sempre nei primi giorni di gennaio, ha diramato la speciale classifica dei 52 luoghi del mondo da visitare nell'anno appena è iniziato. Ed ecco che se nel 2020, il primo posto in cui atterrare Washington, il Molise si attesta sulla 37esima piazza. Nella motivazione vengono elencate alcune delle bellezze simbolo, l'area archeologica di Sepino, l'andocciata di Agnone, la transumanza, recentemente eletta a patrimonio UNESCO, ancora la transiberiana d'Italia, il mare e la storia di Termoli, le montagne e nevate di Campitello Matese. La piccola regione italiana viene posta poco dopo Parigi e prima di Copenhagen, Minorca e della Mongolia. In graduatoria altri due luoghi meravigliosi d'Italia, la Sicilia al settimo posto e Urbino al cinquantunesimo. Non è la prima volta che il New York Times premia l'Italia. Lo scorso anno in classifica c'erano la Puglia e la Riviera Ligure. Nel 2018 la Basilicata occupava il terzo gradino del podio, seguivano l'Emilia Romagna e l'Alto Adige. In Molise c'è tutto ed è da vedere perché è genuino, vero, immutato e intatto. Il richiamo viene da oltreoceano. Chissà che in molti non asseconderanno la curiosità di scoprire questa terra così naturale, forse troppo bistrattata e poco considerata, spesso dagli stessi molisani. Adesso i titoli di primo piano Molise, frontale sulla Statale 85, drammatico il bilancio. Morto e quattro feriti. Il terribile schianto ieri pomeriggio all'altezza del Bivio per macchia. Il cuore di Fausto Valeri si è fermato durante il trasporto in ospedale. La vittima viaggiava con la figlia su un doblò in rianimazione. L'uomo alla guida della Focus. Mentre la politica anche al centro pagina. Giunta, toma, aspetta la Lega. Calenda sulla strada del ritorno. La passionaria di Sernia verso l'ovile Mazzuto resta nell'esecutivo. Termoli scomparsa da 23 giorni si teme per la vita di Vicky. Campobasso centro per l'impiego, caos e disagi senza fine. Il punto a firma di Gianluigi Galeone procura al top. Ora tocca ai molisani. Mentre nei tagli alti Campobasso, Assisi e Commissioni. Ecco quanto guadagnano i consiglieri comunali più soldi alle opposizioni. Sempre presenti. Cerce Maggiore insegue la Giulietta dei Ladri. Loro si fermano e gli spaccano il parabrezza dell'auto con piede di porco. Le notizie di spalla. Venafro, l'inquinamento diventa terreno di scontro politico. Turismo, il Molise. Tra le 50 mete consigliate dal New York Times. Campobasso, commercio in declino. Lo storico Caffè Lupacchioli chiude dopo 180 anni. Termoli, Fiat, contratti di solidarietà fino ad agosto per 1700 lavoratori. Poi lo sport, il calcio di serie D. Lupi ha firmato Sanseverino. Candellori a Notaresco. Andremo per vincere la gara. Vasto Girardi, crudele. L'obiettivo resta la salvezza. Calcio a 5, resa a testa alta per il CLN Cus Molise. Passiamo adesso ai quotidiani nazionali con i titoli del messaggero. Haftar alza il prezzo per la tregua. Caos, Libia, Serrai dice sì allo stop delle armi. Il no del generale che continua l'avanzata. Conte Di Maio, vertice dopo la gaffa diplomatica. Trattativa a Roma tra Tripoli e gli USA. Di spalla la mancanza di visione che paralizza il paese. L'articolo di Alessandro Campi, poi all'interno l'aereo abbattuto da un missile. Trudeau, ho le prove, è iraniano. La contraerea contro il jet ucraino. Trump, qualcuno ha sbagliato. Cannabis Light, Blitz, Movimento 5 Stelle per l'ok nel mille proroghe. Siamo così ai titoli del Corriere della Sera. Di Maio, Libia, basta attacchi al Premier Conte. Il ministro, l'Europa parli con una voce sola. Sarrai dice sì alla tregua, ma Haftar la boccia. L'immagine centrale, aereo caduto. Trudeau accusa, colpito da un missile iraniano. La strage, il Canada e gli Stati Uniti. Ci sono le prove. Trump si fermi sul nucleare, pronti a trattare. L'articolo di Viviana Mazza. Passiamo così ai titoli. Della Repubblica, strade insicure, a rischio 200 gallerie. L'allarme del Consiglio dei Lavori Pubblici. In tutta Italia, tunnel fuori norma. Andavano messi a posto mesi fa. Torna la polemica su autostrade. Movimento 5 Stelle, revocare la concessione. Conte e il PD, per evitarla, abbassino i pedaggi. Referendum sui parlamentari. Sfida all'ultima firma, mentre all'interno il Boeing ucraino, abbattuto dall'Iran, Libia, Aftar dice no alla tregua. E va all'offensiva. Passiamo ai titoli del Sole 24 Ore. Progetto quota 102. Pensione a 64 anni, con 38 di contributi tecnici al lavoro, per evitare che dal 2022 i requisiti di età aumentino in modo brusco. L'immagine centrale sulla terra dei fuochi, senza commissario allarme bonifiche. In Campania, autostrade declassata da FICT, ora BEI e CDP possono chiudere i fidi. Lo sport con i titoli della Gazzetta dello Sport Futuro al Max. Milan, piano per la rinascita. Idea Allegri alla Ferguson, far cassa coi big. Tenere, Gigio. Un'inter scatenata, area di scambio che si politano. Lunedì, Young per la firma e si riaccende la pista Giroud. Mentre ancora all'interno, con i titoli sull'Atalanta, Caldara torna a casa all'Atalanta per ripartire. Bene, con questo è tutto. Adesso diamo uno sguardo agli appuntamenti previsti sulla nostra rete nella giornata di oggi. Si parte alle ore 11 con Molise Sport. Ore 13, viva la musica, Salus TV. Alle ore 13.45, l'edizione del telegiornale alle 14. Ore 16, Molise Sport. Paese mio alle 17.30. L'edizione del TG News alle 19.30, alle 21.00, conto alla rovescia. L'ultima edizione del telegiornale alle ore 23.00. Bene, con questo è davvero tutto. Grazie per aver scelto la nostra informazione. A tutti un buon proseguimento di giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.